Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Tagba Buyukustun ha indicato il suo bambino. Risposta alla domanda sul nuovo progetto. Tagba Buyukustun, felicemente sposata con Engina Kurek dal 2016, ha condiviso le foto del suo viaggio in Egitto e la famosa attrice Tuba Buyukustun ha risposto alle domande sul suo nuovo progetto. Tagba Buyukustun, incinta di 5 mesi, continua il suo viaggio in Egitto. L'attrice, che ha annunciato che il parto avverrà in Turchia, continua qui i suoi post. In risposta alla domanda sul nuovo progetto, Tagba Buyukustun ha detto, il mio nuovo progetto nelle vicinanze è il mio bambino nella pancia. Ecco perché non ha un nuovo progetto in questo momento. Stanno aspettando un maschietto. Tagba ha annunciato il sesso del suo bambino in un programma a cui ha partecipato in Italia e ha dichiarato che sarebbe stato suo figlio. Le pose di Tuba Buyukustun con il suo bambino hanno raccolto migliaia di mi piace sui social media. Il nuovo progetto di Tagba Buyukustun è il suo futuro bambino. Continua a guardare il nostro video per le nuovissime condivisioni di Tagba Buyukustun.